yo bella raga benvenuti in questo nuovo fantastico video ragazzuoli in questo video vi spiegherò come raddoppiare le vostre uccisioni esatto ragazzi è uscito fortnite mares che è l'evento di halloween di fortnite ragazzi ci ha portato tantissime novità tra l'altro ragazzi devono uscire delle skin bellissime oggi è uscita la prima cioè il nuovo school trooper che tra l'altro ragazzi vi consiglio di acquistare con il mio codice supporto al creatore rampigiano moly97 chiunque lo farà ragazzi mi raccomando taggatemi su instagram e inoltre ragazzi quando inizierò a fare i provvini mandatemi la foto che mi state supportando nello shop e avete la precedenza oltre a ciò ragazzi se questo video raggiungerà almeno i 2000 mi piace entro 24 ore dall'uscita di questo video porterò la mia nuova sensibilità la sensibilità che sto usando attualmente che è di un pro player veramente mostruoso che pochi conoscono ma in america sta spopolando e niente quindi ragazzi mi raccomando 2000 mi piace entro 24 ore condividete questo video con tutti i vostri amici iscrivetevi al mio canale se siete nuovi e condividete questo video con tutti i vostri amici come si fa a raddoppiare le vostre kill semplicemente ragazzi andate a giocare in pubblica e uccidete provate magari ad andare in solo discord in solo coppie e provate a killare i nemici una volta che li avrete killati facile facile e ritorneranno sotto forma di fantasma e la ragazzi li potrete richillare ovviamente una seconda volta perché? perché i player ragazzi sono stupidi quindi cosa fanno? una volta che muoiono ritornano a pushare per vendicarsi sul player che li ha uccisi se fate questo ragazzi quindi se provate a giocare in questo periodo o in solo vis duo o in solo vis squad farete un sacco di kill io in questa serie live su twitch che trovate il link sotto in descrizione farò una live dove tenterò le 30 bombe tramite questo metodo sarà molto fattibile se vedo che riesco facilmente a farne 30 punterò magari alle 40 perché grazie a questo metodo ragazzi ovviamente i nemici sono diciamo più deboli perché ovviamente sotto forma di fantasma si ti fanno tanto danno e tutto però ragazzi hanno solamente 100 di vita e poi in distanza sono praticamente fregati detto ciò ragazzuoli vi lascio con il video che ho fatto cioè con la partita che ho fatto oggi in live dove ho realizzato ben 21 bombe in gruppo da 2 con Dan e niente ragazzuoli detto ciò vi lascio alla partita che è veramente divertente guardatela un rocchio e dispara quello 4 bella di merda che fai di mettere il mio codice non mi ha dato lo spazio ho chiudato su le zumba adesso li zubi che fa? no lo scappo li ammazzo tutti fra vieni c'ho lo spazio li one shot vieni qua giù eccolo fuori uno tu hai detto che li one shot? vieni la vita di vita allora te si che sei un problema Dan aiuto sono due vieni che giacchi di un merco giacchi più li hai possibile spiegarmi qua ma che fai? ma che cazzo ultimo ho avuto tutto termico lo vedo fai lassù mangio i bambini è scappato chi da me è da me il figlio di buttana fatto arrivo da te mi chiamavano Ghostbuster fai che ho dovuto termico è troppo bello ah si si ah ok uno è morto è fantasma craccato craccato uno craccato uno distrutto quello fra il Fade's Way anche il W27 li ho fatto uno che vola è il fantasma l'han finito no appunto no appunto no appunto tutto è kill easy ho fatto uno ce lo scelto la gettela vera bella la mia assistita dov'è? è sceso si ho l'impulso beh tu te la possiamo usare insieme se vuoi aspetta è salito vai sparala sotto i piedi eh mamma mia parata malissimo bravo craccato white white la Recon dai un colpo deve entrare cazzo bravo 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 dove è? white mamma mia fatto? eh shield dove sei? ah shieldone che carino eccolo fatto? eh tutto due boh 12 kill let's go così fraccia hanno questo se ti serve ehi adesso cazzo faccia questo dà due colpi ai di zombie dove? è un fantasma eh figa volevo io pushare per primo non le due devo farle kill no no che non sei altro questo è perché fa schifo questo è perché sei un bovino sei c'è un mongo c'è un mongo laddi perché è un mongo che cosa va più in alto voda 3 bianco bianco cazzo bello 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 il tamburo mamma mia io ho sparato a lui e ho pensato che era là dentro e era a fianco a me non so cosa voleva la ha i soldi voleva eh lo so io che lo sapevo ho visto però addy guardati qua aspetta se non è dentro i macchini se la tambura non ha senso l'ho ucciso? no è un ombra è un ombra morto morto bravo spaccato tutti signori dove siete? è un fantasma? si ecco li arrivano dance lì dietro lo so lo so te lo lascio cavolo hai fatto duffer fatto 20 bombe let's go boys c'è l'ultimo? no c'è gli ultimi due gli ultimi due ristiamo? dov'è? non ho usciano sono paura sono piccoli eccoli bam 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 fra uno ballava la breakdance è rimasto l'ultimo e dove? eh non lo so se sapevo dove fosse fra la terra è già esplodata non lo vedi a pianto mamma mia let's go i jumpscare i jumpscare 21 kill killa io io i Grazie a tutti.